Ciao ragazzi, oggi vi farò vedere quanti palleggi riuscirò a fare, ma non palleggi con il piede, palleggi così. Allora, siete pronti tutti? Ora io metterò il cronometro. Tra 5, 4, 3, 2, 1, iniziamo! Spero che ci riuscirò. Spero che ci riuscirò. Quanti anni ho usati? Vediamo. 54 e 93. Spero che non mi è venuto bene, sai perché? Non mi è venuto bene, sai perché? Però, non so se vi è piaciuto, solo perché questo posto è un po' strettino. Non so se vi è piaciuto, se vi è piaciuto mettete un pollicione in su. Se non vi è piaciuto, mandateci a cagare. Ciao!